Musica Hanno macinato passi per 65 km complessivi passando per San Severino, Serra Petrona, Belforte, Camporotondo, Caldarola, Pieve Favera per arrivare alla città ducale, tra sorrisi e accoglienza nei palazzetti e nelle strutture agibili della zona, sindaci e persone incontrati lungo la strada. Ecco, in cammino per Camerino, la marcia solidale alla seconda edizione per sostenere le zone colpite dal terremoto con partecipanti in arrivo da tutta Italia, organizzata dall'associazione Qui e Ora di Osimo. Il ricavato verrà devoluto all'associazione di Camerino, città in cui sono ancora lunghi i passi verso la normalità, negata ancora una volta. La marcia dei camminatori si è dovuta fermare alle transenne, la piazza centrale è di nuovo in zona rossa dopo la scossa da 4.6 del 10 aprile per nuove fessurazioni nei campanili. Lì, davanti alle transenne, lacrime e applausi per una Camerino che avrebbe voluto vestirsi di profumi e colori, con la manifestazione di Cortili in Fiore, la festa della primavera di Camerino, portata in piccola scala davanti al giardino botanico. Io avevo visto su internet che c'era una camminata di solidarietà per Norcia, alla quale poi ho partecipato. L'idea mi è piaciuta tantissimo lo scorso anno, per cui parlando con lei ho detto che mi piacerebbe tanto fare qualcosa anche per Camerino. E Roberta, che è una persona non entusiasta di più, innamorata della sua città, subito ha accolto la cosa veramente con entusiasmo e ha detto facciamola. Lei dice che io sono un'entusiasta, è vero, ce la metto tutta, però i cedimenti ogni tanto ci sono. Io ancora non ho una SAE, ancora sono con la mia attività sotto una tenda, quindi comunque stiamo resistendo. Però è passato davvero tanto tempo, quindi è dura, ci sono dei giorni che cediamo. Però poi quando c'è qualcosa del genere, c'è un abbraccio così grande da tutta Italia, poi la forza ti torna. Quindi questa è l'infa vitale per noi. Il cammino anche l'anno scorso è per portare un po' di affetto a questa gente, per dimostrare che non devono sentirsi soli. Io non ho fatto una metafora di vita, di non essere mai arrivati. L'anno scorso eravamo circa 130, quest'anno siamo 170 e la cosa però più bella di tutti è che vengono da tutte le parti d'Italia e che tutti hanno veramente, lo fanno con lo spirito giusto, cioè con uno spirito di solidarietà, cioè camminare, incontrarsi con le persone, parlare con le persone che si incontrano durante il cammino. Siamo molto convinti del fatto che questo possa essere un modo per far ripartire in modo molto immediato un'economia di piccola scala, però altrettanto importante in attesa che ripartano realtà più grandi. Se volete camminare con noi dal 27 giugno all'8 luglio, da Fabriano all'Aquila. Questo collegamento di chi cammina in montagna, chi non si guarda indietro ma guarda in avanti, cercando di scavalcare ogni difficoltà e così anche noi giorno per giorno ci inventiamo una strada nuova, un sentiero nuovo per superare le tante difficoltà che il territorio sta attraversando.